Capisci cosa ha cercato di farmi credere? Eh sì, e lui ti ha detto? Niente, perché prima gli ho dato uno schiaffo e poi gli ho giurato che adesso lo faccio sul serio. Mi sembra giusto. Però mi dovresti aiutare. Aiutare io? Sai, non è facile, io non conosco molti uomini. Tu ne conosci tanti, hai più esperienza. Beh, come vedi, qui un po' di uomini ci sono. Aspetta, te ne presento qualcuno. Corrado, tu conosci Marta? Salve. Buongiorno. Permetti Ugo? E questo è Ugo. Guarda carino. Tanto piacere. Piacere. Aldo, scendi. Ti presento la mia amica. Io mi chiamo Marta. Peretti, lieto. Vieni Gloria, scendiamo. Perché non ti piacciono? Sono tutti campioni, sai? Gloria, dimmi. Senti. Sì? Ricordati che io sono una donna sposata. Questi sono un po' troppo giovani, non mi sembrano adatti. E poi magari parlano. Oh, se è per questo parlano tutti, guarda. Comunque te ne presenterò degli altri.